BG Personal Advisory e la consulenza evoluta di Banca Generali, personalizzata, flessibile e completa, permette di gestire in modo integrato il tuo patrimonio insieme al tuo consulente. Andrea ha 46 anni ed è manager di una multinazionale. Fin da ragazzo ha sempre amato esplorare il mondo e oggi viaggia soprattutto per lavoro. Ha poco tempo, ma sfrutta tutte le tecnologie digitali per concentrare i suoi impegni e dedicarsi il più possibile alla sua famiglia allargata. Abbiamo pianificato insieme ad Andrea un modo efficace e integrato per gestire tutto il suo patrimonio. Abbiamo riqualificato il suo capitale immobiliare e diversificato i suoi investimenti finanziari. Con un occhio attento anche al futuro di tutta la sua famiglia. Investment Advisory, Family Protection, Real Estate. Con BG Personal Advisory, Andrea ha trovato soluzioni personalizzate e nuove idee per tutelare le persone a lui care. Esperienza, importanti partner strategici e una piattaforma tecnologica innovativa per guardare al domani con nuove prospettive. BG Personal Advisory, diamo forma al tuo futuro.